Ciao a tutti, in questo video parliamo del progetto EOSDT che veramente è un progetto strepitoso che vi permette di stampare criptovalute stabili a partire dai vostri EOS ma come sempre prima, cartello investi responsabilmente e a tuo rischio come tutti i video in questione si sta parlando di progetti blockchain, quindi software potrebbero avere bug, potrebbero non andare come uno si aspetta tuttavia questo progetto è realmente interessante, si chiama EOSDT ed è una DAP che vi permette di stampare appunto criptovaluta stabile vi parlerò appunto di questo progetto, quindi veramente mettete un mi piace sulla fiducia perché sarà qualcosa di quasi incredibile allora questa DAP ricorda un po' MakerDAO DAI per appunto la blockchain Ethereum in questo caso invece questo EOSDT è appunto una DAP sviluppata dal progetto Equilibrium con la partnership con Ora Clides, Ora Probable e vi permette appunto di creare delle criptovalute che corrispondono a un certo quantitativo di EOS bloccato nello smart contract le motivazioni per fare questa cosa sono molteplici nel senso normalmente quando si sente parlare i Bitcoin maximalist dicono che appunto Bitcoin non oscilla perché un Bitcoin vale sempre un Bitcoin tuttavia quando poi uno ha a che fare con altre persone è difficile apprezzare le cose in Bitcoin visto che comunque le oscillazioni sono ancora tante e questo tipo di oscillazioni sono per lo più dannose per chi sviluppa le DAP questo perché se uno va in un marketplace oppure decide di appunto prendere un certo tipo di lavoro e sa che prenderà un certo quantitativo di Bitcoin o di un'altra criptovaluta non sa poi a fine del lavoro effettivamente se varrà di più o di meno e questa oscillazione ovviamente è importante perché se noi abbiamo delle spese in valuta fiat quindi euro-dollaro non vogliamo avere questo tipo di sorprese quando lavoriamo quando invece speculiamo ok, allora potrebbe aver senso prendere beneficio di questa oscillazione vi lascio appunto il link in descrizione del progetto e appunto il progetto è già attivo quindi se cliccate su Generate EOS DT vi chiederà appunto di autenticarvi con Scatter il wallet per EOS e arriverete poi in questa interfaccia qui della dashboard qui abbiamo la possibilità di bloccare un certo quantitativo di EOS che abbiamo e sostanzialmente si tratta di una specie di banco del pegno 2.0 nel senso nel banco del pegno uno porta magari un orologio d'oro e sa che avrà diritto a una certa quantitativa in euro e dopo un certo tempo noi possiamo riportare questo quantitativo di euro più gli interessi per poter riscattare il nostro orologio che abbiamo dato in pegno qui il funzionamento è analogo ci sono moltissime informazioni che vi invito a considerare comunque in questo momento mettendo un EOS abbiamo la possibilità appunto di stampare fino a 4.96 EOS DT ovviamente qui nella dashboard viene preso il prezzo dell'oracolo quindi un EOS in questo momento viene valutato 5 dollari e 49 e poi appunto si parla anche di quest'altra criptovaluta che è NUT che sarebbe appunto la criptovaluta della governance di questa DAP che appunto è quella che poi andremo a utilizzare per chiudere questo CDP quindi questo collateral debit position quindi qua possiamo decidere quanto bloccare e qua possiamo invece decidere appunto nel momento in cui andiamo a versare i nostri EOS appunto quanto prelevare e appunto ci sono tutte le dinamiche per il quale questi token vengono stampati perché noi sostanzialmente andiamo a bloccare un quantitativo maggiore del controvalore in EOS e appunto nel caso in cui il prezzo salga dovrebbe esserci anche la possibilità di generarne ulteriormente di queste criptovalute stabili di fatto appunto stiamo facendo un debito verso noi stessi non vi faccio vedere la procedura perché appunto vi consiglio comunque di tenere sempre aperto un block explorer per EOS perché appunto non sempre vi dà il feedback in tempo reale comunque io ho generato questi token che appunto si vedono qui sotto sono gli EOS DT e queste qui sono le transazioni che ho fatto quindi ho inviato un EOS e ho tirato fuori 1.5 EOS DT che è... allora EOS DT ok me li fa vedere qui sotto e sostanzialmente questi token appunto valgono un dollaro perché dietro c'è il controvalore bloccato di EOS e cliccando qui vi... no non era questo comunque c'è già qualche exchange per EOS che li trada quindi volendo una volta che avete convertito degli EOS in questa criptovaluta stabile teoricamente potreste comprare degli altri EOS per fare un effetto leva cosa che non vi consiglio di fare se non sapete cosa state facendo però teoricamente sono dei token indipendenti che potete utilizzare come meglio credete secondo me questo tipo di token saranno utilizzati più che altro per appunto le DAP assicurazioni, scommesse, marketplace proprio per separare l'aspetto di accesso alla DAP quindi l'accesso alla rete EOS per la blockchain dal significato delle transazioni che invece andiamo a fare su questa blockchain quindi nel momento in cui acquistiamo qualcosa tramite una DAP con dei token instabili teoricamente noi stiamo acquistando qualcosa senza essere diciamo sottoposti ai problemi che le oscillazioni del token della piattaforma può causare quello che vi volevo fare ancora vedere era appunto dove vengono cioè tutto quello che accade in questa DAP effettivamente si può ispezionare e questo token appunto proviene da questo EOS contract EOS D contract e qui appunto ci sono tutte le informazioni a riguardo sulle persone che hanno fatto questo tipo di conversione e quindi si può vedere effettivamente che dietro questa DAP c'è il controvalore di EOS che appunto dice di avere lo stesso discorso non si può fare per i molteplici token stabili che ci sono su CoinMarketCap perché in quel caso lì non è che ci danno la password del loro conto in banca per andare a controllare e qui invece effettivamente si può vedere che c'è una certa quantità di EOS presenti sullo smart contract che allo stato attuale il controvalore di EOS che c'è adesso su EOS DT è quasi di mezzo milione di dollari di EOS questa cifra qua che dire penso che questa cosa sia molto interessante per le DAP un'altra DAP su blockchain Ethereum Augur quella appunto delle previsioni ha annunciato appunto l'annuncio ha annunciato appunto l'introduzione di un token analogo per la loro piattaforma proprio perché magari uno faceva la previsione esatta però per il tempo che bloccava Ethereum su quello smart contract anche se aveva vinto però il valore finale di Ethereum poi magari era diminuito e invece utilizzando le criptovalute stabili questo tipo di cosa non succede e quindi appunto abbiamo l'assicurazione che se abbiamo azzeccato una previsione in quel caso di quella DAP effettivamente poi avremo un controvalore maggiore di valuta stabile che dire fatemi pensare lasciatemi nei commenti cosa ne pensate di questo tipo di stablecoin collaterale l'altra cosa che volevo ancora dirvi è che appunto come tutti i token su blockchain EOS non ci sono costi di transazione quindi questa è un'altra cosa interessante da considerare e quindi per adesso vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao a tutti 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 ciao a tutti